La dieta mediterranea è al centro di studi scientifici e nutrizionali da decenni e finalmente gli studiosi sono giunti a una conclusione. Che la pasta fatta in casa di nonna Squalè è imbattibile? Fuochino! Il segreto per vivere a lungo e in salute è la dieta mediterranea, ma deve essere frugale. Frugale vuol dire contenuta nell'apporto calorico quotidiano, con una composizione della piramide alimentare fatta così, il 70% di vegetali, di cui il 20% di frutta. I vegetali includono ortaggi, legumi e cereali integrali che apportano 55% di carboidrati, 35% di grassi, 10% di proteine. E per gli snack carote crude? Non esageriamo! Nella dieta mediterranea tradizionale gli snack sono a base di frutta secca, olive, frutta fresca oppure pane abbinato a olio di oliva o formaggi a pasta dura stagionati. E per i grassi? Ecco il segreto! Nella dieta mediterranea frugale i grassi sono in prevalenza di origine vegetale, da olio, olive, frutta secca, quindi ricchi di omega 3 e omega 6, dai poteri anti-age. Le poche proteine animali derivano da pesce, uova, formaggi. L'apporto calorico è contenuto in media tra le 1200 e le 1500 calorie e va abbinato a una vita attiva, già da bambini fino alla terza età. Una tendenza globale. Secondo le ricerche, le popolazioni più longeve del pianeta seguono abitudini simili. Le stime dicono che si vive più a lungo in Italia, in Sardegna, nella zona Villa Grande Strisaili, in Grecia a Icaria, negli Stati Uniti a Loma Linda, in Giappone a Okinawa. Sentito squaletto da oggi a dieta? Attenzione, oggi viviamo in un ambiente molto diverso da cento anni fa. Bisogna far fronte a esigenze nuove e il cibo non è più così nutriente. Per questo la regola più importante è evitare il cibo industriale e prendere spunto dalla dieta mediterranea frugale per seguire un'alimentazione più sana e corretta. Mangia bene e vivi a lungo! Sotto in descrizione trovi link ai miei libri e ebook per stare in forma e stare bene sempre. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale e il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. segui tutti i miei video, iscriviti al canale, attiva tutte le notifiche, metti mi piace e segui la pagina. Iscriviti alla newsletter del mio sito. Ti è piaciuto il video? Metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!